Un bel po'. Sì, dai, è andata molto bene, pensavo peggio e invito appunto tutti i ragazzi della mia età a effettuare questo controllo perché è un'ottima opportunità, soprattutto per il bene di noi stessi e per chi ci circonda e niente, è stata un'ottima occasione, ecco. Com'è stato fare il tampone? Ma lì per lì un secondo, un attimo, quel pizzichino di dolore si è sentito, però per il resto, bene dai. Un modo per proteggere noi e non solo, è un modo per proteggere tutti i nostri compagni, la nostra famiglia e tutte le persone che abbiamo il piacere di incontrare, quindi è estremamente importante che questa cosa venga fatta, soprattutto se ci è stata data l'opportunità. Nei prossimi giorni di screening, che andrà avanti fino al 13 gennaio, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, parteciperanno anche altre classi, ha poi fatto sapere la dirigente Augello. Rappresento i ragazzi, i docenti, i dirigenti, tutti vogliamo che la scuola inizi in presenza, quanto possibile ovviamente con l'organizzazione necessaria per far sì che questo accada. I ragazzi in questo momento, il limite è che chiaramente non venendo a scuola riusciamo a coinvolgere di meno, noi abbiamo delle attività laboratoriali in presenza come previsto dai dpcm, quindi abbiamo qualche ragazzo che viene e siamo riusciti a coinvolgerli. Magari sarebbe auspicabile, lancio così una richiesta all'amministrazione, sarebbe auspicabile che lo screening fosse all'interno delle scuole, ovviamente sempre libero, volontario, su base volontaria, si potrebbero organizzare tranquillamente dei turni e così i ragazzi sarebbero coinvolti più facilmente. Per quel che ci riguarda, ovviamente noi abbiamo fatto una circolare, abbiamo cercato di sensibilizzare corpo docente e alunni, molti sono venuti in autonomia, altri sono venuti accompagnati dai professori e oggi assieme a me è stata la giornata inaugurale, diciamo. Un modo per coinvolgere più giovani possibile nell'operazione Marche Sicure e dare il buon esempio ai propri coetanei, proteggendo i propri cari, ha poi commentato il vice sindaco Cristian Fanesi. È un piacere aver accolto nella nostra organizzazione dello screening di massa anche le scolaresche, anche l'idea di poter fare le screening a tutti gli studenti, addirittura dentro le scuole, nel caso l'ASUR fosse disponibile a farne. Io credo che sia un'idea ottima per poter continuare a mandare i ragazzi a scuola e per poter, come dire, continuare la nostra vita in sicurezza, ma tranquillamente, in maniera tale che poi pian piano con i vaccini tu torni alla normalità. Quindi un'idea sicuramente che ci viene dalla scuola e che sicuramente va accolta. Grazie Grazie Grazie